Alle 9.41 il click day è partita la lettera al ministro per fare la richiesta di riapertura del Tribunale di Bassano, visto che è una struttura sulla quale sono stati investiti bei soldini, che è pronta ed è chiusa da diversi anni, è giusto di riaprirla intanto come sede di Tribunale delle Imprese e dopo in vista di una riapertura come Tribunale Ordinario. La Confartigianato del Veneto alza il tiro denunciando il pesante vuoto amministrativo, economico e sociale derivato dalla soppressione del Tribunale di Bassano. Un appello rivolto anche all'intera classe politica veneta e al ministro della giustizia Andrea Orlando, destinatario di una lettera inviata stamattina nella quale si chiede la riapertura di una nuova struttura specializzata in diritto societario, una sezione distaccata del Tribunale delle Imprese che attualmente è a sede a Venezia in una posizione baricentrica del Veneto. Un territorio che rappresenta il 38% delle imprese dell'intero Veneto, e un territorio che in vista del completamento della Pedemontana diventerà un territorio unico, coeso, già adesso lo è ma a maggior ragione quando sarà completata questa infrastruttura. A Bassano esiste già un immobile, terminato da poco costato alla collettività 13 milioni di euro e attualmente vuoto. Pronto, dicono, ad ospitare gli uffici distaccati del Tribunale delle Imprese. La nuova struttura giudiziaria potrebbe dare risposte rapide e certe alle imprese, sostenendo così il rilancio dell'economia. Uno studio recente ha dimostrato che i Tribunali delle Imprese hanno rappresentato un esperimento di successo, in quanto hanno portato la media delle cause relative a diritti di proprietà, brevetti, fra imprese, sotto l'anno di durata. Prima eravamo sicuramente sopra i tre e cause economiche generiche sopra i cinque. Insomma, la battaglia del territorio pedemontano per riavere il Tribunale a Bassano non si ferma. A Roma non potranno non ascoltare il grido di dolore degli imprenditori del Veneto.